Le prossime elezioni amministrative si terranno il 14 e 15 maggio in 50 comuni in tutta la Puglia. Il turno di ballottaggio si terrà il 28 e il 29 maggio. In provincia di Lecce le urne saranno aperte in 13 comuni, di cui 5 commissariati, per un totale di 82.269 cittadini chiamati ad eleggere i propri amministratori. Si vota nei comuni di Alezio, Giordignano, Montesano, Salentino, Salve e Sandonato, San Nicola, Santa Cesaria Terme e Spongano. I comuni commissariati al voto sono invece quelli di Surbo, Veglie, Vernole, Otranto e Squinsano. C'è chi tra i sindaci uscenti, come spesso accade, tenterà la corsa al bis e ci saranno partite invece da organizzare completamente ex novo. Conosceremo tutti gli sfidanti con periodici appuntamenti nel Tg e oggi iniziamo da San Nicola. Qui il sindaco uscente Cosimo Piccione, con alle spalle già due mandati, non farà certamente parte dei giochi, o almeno non in prima linea. Nel solco del suo operato, però, è pronto a competere un suo fedelissimo. Si tratta di Graziano Scorrano, 43 anni, fisioterapista di professione e già vicesindaco. Con lui il governo a guida centrodestra si garantirebbe continuità. Sul fronte opposto, quello del centrosinistra, il nome dello sfidante sarebbe quello di Pippi Nocera, già sindaco per dieci anni. Per ufficializzarlo, però, si attende un'assemblea pubblica, che nei prossimi giorni chiamerà a raccolta tutta la coalizione.